Forte lo sgomento e la preoccupazione tra i familiari di Anna Carlini, la giovane 33enne con problemi psichici, violentata e rivenuta a cadavere nell'agosto dei due anni fa nel tunnel della stazione di Pescara. Secondo quanto diffuso da alcuni organi di stampa, nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Rosangelo Di Stefano, a carico dei due rumeni, attualmente latitanti, sarebbe stata omessa l'accusa di omicidio volontario. Avvocato, in questo modo però viene vanificato tutto l'impianto accusatorio? Sicuramente lo staturo maggiore, quindi l'ipotesi più importante viene meno, rimane in piedi soltanto l'ipotesi della violenza sessuale e l'abbandono di persone incapaci. Anna Carlini, affetta da problemi psichiatrici, sulla base dell'ipotesi accusatoria sarebbe stata condotta in stato confusionale nel tunnel della stazione, dove nel corso della notte i due indagati avrebbero abusato di lei fino ad ucciderla per poi abbandonarla al suo destino. Secondo il PM, il comportamento dei due indagati doveva essere inquadrato ai sensi dell'articolo 593 del codice penale in materia di abbandono di persone incapace di provvedere a se stessa. Intanto, l'avvocato Corradi ha reso nota la risposta ricevuta dal Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'istanza presentata da Isabella Martello sul decesso di sua sorella Carla. Due giorni fa ho ricevuto una PEC direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha fatto tutti gli accertamenti tramite il Ministero della Giustizia e ci ha confermato la presenza del Cioraruneru in Romania. Si trova in uno stato di arresto per reati commessi in Romania. Le istituzioni italiane hanno comunque richiesto anche la temporanea consegna visto l'importanza dei reati commessi in Italia. Chiaramente, anche alla luce di quanto abbiamo appreso oggi, se fosse vero, anche questa consegna temporanea potrebbe essere anche pregiudicata. Fermo restando che comunque c'è sempre l'ordinanza custodiale messa dal GIP per ipotesi di violenza sessuale. Noi lotteremo affinché chi deve pagare paga, ci devono dare l'estradizione, loro devono pagare. Non è giusto che viviamo solo noi l'ergastolo e se per noi la nostra pena è senza fine deve essere anche per loro. Anna non c'è più, Anna ha lasciato due bambini. Sfio 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 Grazie a tutti.